Dramma domenica mattina a Santa Caterina di Lusiana Conco. Flavio Pozza, 68 anni del posto, è morto a causa dei traumi riportati a seguito di un incidente mentre stava raggiungendo un campo lungo via Piazzetta con un amico. La tragedia attorno alle 10 di domenica. Pozza era seduto su un mezzo cingolato sopra un rimorchio, trainato era un trattore condotto da un conoscente. Mentre il veicolo affrontava la salita, il trattorino, che probabilmente era stato agganciato male, è scivolato. Il 68enne ha cercato di scendere ma è piombato a terra finendo schiacciato sotto il cingolato. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del suo M118 da Asiago, i carabinieri di Lusiana Conco e i tecnici dello Spisal, visto che il mortale si potrebbe configurare come incidente sul lavoro dal momento che i due stavano andando ad arare un campo per conto terzi. Non si esclude l'autopsia sul corpo di Flavio Pozza. L'uomo viveva solo in centro a Santa Caterina ed era membro attivo sia nel gruppo alpini che in quello dei donatori di sangue, sempre impegnato nel coinvolgere i compaesani nelle attività della frazione.